Vi abbiamo incantato e fatto viaggiare tra le mille storie che i castelli ci hanno regalato Vi abbiamo fatto innamorare raccontando le gesta del giovane eroe Ludovico e della sua principessa Vi abbiamo portato nello spazio tra storie di robot, astronauti e spade laser Solo per una notte li potrete rivedere tutti Castello Errante, la trilogia Grazie